Siamo live, benvenuti a questa nuova AMA amici miei non dell'avventura lunedì 11 luglio vediamo assieme quelli che sono i temi principali che verranno trattati all'interno di questa sessione poi come sempre diamo spazio anche al question time innanzitutto focus su gli etf relativamente al mondo cripto perché c'è stata una vagonata di richieste pervenute a fronte della precedente AMA su problematiche di natura di negoziazione legate a alcuni intermediari italiani che presumibilmente non consentono in questo momento di sottoscrivere o di acquistare questi questi strumenti poi un focus sulle opzioni di bitcoin e anche questa settimana abbiamo notizie diciamo non particolarmente di conforto il lancio del progetto Road to 100k non vi anticipo niente ma la settimana prossima ci sarà una novità decisamente fuori dal coro un esperimento con denaro reale che avrà una durata di circa tre anni quindi partirà nelle prossime settimane e verrà monitorato per mese dopo mese fino alla metà del prossimo ciclo di halving infine gli exchange quelli che sono quelli più tra virgolette blasonati o se non altro quelli maggiormente consigliati in questo momento di operatività e poi facciamo un focus anche ad alcuni argomenti prattamente legati al mondo cripto che hanno iniziato a diventare significativamente interessanti partirei infatti a tal fine proprio con questa questo editoriale di fondi e sicav che come potete vedere richiama a un nuovo tema di investimento che viene proposto da una casa una delle più note case di gestione al mondo che è Invesco Asset Management e come potete vedere individua il tema del metaverso come un trend emergente per i prossimi anni e per questo motivo ad esempio che tante case di gestione hanno iniziato a strutturare dei comparti finanziari a gestione attiva che hanno che consentono di replicare questo universo quindi e questo fa comprendere perfettamente le modalità in base al quale c'è una sostanziale differenza tra la replica cosiddetta passiva e la gestione attiva che consente invece adesso di iniziare a discriminare sui progetti più interessanti parentesi perché è un elemento di nuova riflessione emerso proprio la scorsa verso la metà della scorsa settimana il se voi iniziate ad utilizzare per analizzare il la quotazione di bitcoin di bitcoin se passate alla quotazione in euro scoprirete che il massimo storico precedente non è stato compromesso cosa vuol dire che se torniamo indietro a fine 2017 grosso modo siamo arrivati ai 17.500 euro che ovviamente all'epoca erano circa i 20.000 dollari tanto blasonati e conosciuti ebbene se oggi andiamo ci spostiamo in avanti e andiamo alle recenti settimane in cui c'è stato un pesante sell off ebbene quei 17.500 euro del 2017 non sono stati perforati che cosa vuol dire non sono stati perforati che hanno mantenuto la loro resilienza e questo cambia decisamente il quadro ovviamente per quanto riguarda la quotazione di bitcoin in euro quello che sta attenzionando particolarmente i gestori quindi come plausibile come plausibile spiegazione ho visto che viene richiamata la l'effetto cosiddetto booster del tightening monetario nei confronti del dollaro che ha modificato e esagerato ovviamente tutta la sua tutta la sua tutto il suo andamento anche in conseguenza della vulnerabilità che contraddistingue in questo momento qui l'Unione Europea a causa del conflitto tra Ucraina e Russia passando subito a vedere quelli che sono le metriche desumibili in questo momento di mercato rispetto alla settimana scorsa come potete vedere innanzitutto abbiamo una concentrazione verso la fine del mese di scadenze di una certa rilevanza fine luglio vedete 29 luglio rispetto a quelli attuali la prossima successiva sarà il 30 settembre quindi questo significa che la metà di luglio e agosto non potremmo aspettare non dobbiamo aspettarci chissà quali particolari reazioni da parte dei mercati dal punto di vista pratico questo significa a tendersi un andamento di lateralità o di sedimentazione che è anche desumibile dalle principali testate che analizzano e descrivono l'andamento di bitcoin che fanno capire vedete trading sideways ossia assisteremo a una fase di lateralità che potrebbe andare avanti per svariate settimane con il prezzo che continuerà a salire e scendere all'interno di questo range particolarmente stretto tra i 20.000 e i 22.000 dollari lo ripeto ancora una volta l'importanza della quotazione in dollari adesso per i gestori perché graficamente l'analisi tecnica mi sta dicendo se utilizzo la quotazione in euro che la struttura tecnica che avevamo conosciuto durante 2017 e 2018 non è stata compromessa e guardate che questo è un elemento di elevata a rilevanza ovviamente per i criptogestori e anche per noi europei che ovviamente utilizziamo l'euro come inizieremo ad utilizzare anche noi l'euro come valuta di riferimento per la quotazione in bitcoin quindi mettendo non so per quanto tempo a lato invece la quotazione in dollari se andiamo ad analizzare gli strike scopriamo che c'è una rarefazione ma anche una compressione su le aspettative per i prossimi mesi scusate per le prossime settimane su le ipotesi che si stanno facendo in questo momento qua i operatori corporate come potete vedere la compressione tra i 18.000 e i 22.000 sia put che call quindi sintesi estrema c'è una grande mancanza di convinzione da parte di chi sta operando professionalmente convinzione che si salirà e convinzioni che si scenderà e quindi la terra di mezzo staremo lì dentro per molto plausibilmente per molto e molto tempo attenzione perché da questo punto di vista diventa interessante allora valutare la fase di mercato per ricostruire o effettuare il reset dell'intera propria posizione io ricordo che questo momento cioè questo momento di mercato mi porta indietro al 2015 all'estate del 2015 quando grosso modo bitcoin stava tra i 200 e i 300 dollari e andò avanti così per svariati mesi prima di assistere a una fase di breakout con una nuova propulsione e ci vorrà anche in questo caso non solo i volumi ma qualche sorta di notizia a modificare a cambiare gli animi per creare quel primo effetto di smarcamento che crea che produce un breakout in questo caso qua atteso a rialzista se ci soffermiamo un secondo oltretutto sui costi di mining scopriremo che questi ultimi si sono come potete vedere abbassati in queste ultime 48 ore e adesso sono ritornati in equiti positiva anche i miners un recente redazione editoriale di Bloomberg proprio inizio settimana scorsa menzionava come mediamente i miner quelli con le spalle più grosse quelli che si possono permettere di resistere a momenti di mercato particolarmente difficili con anche rarefazione sugli scambi possono resistere fino a 9000 10.000 dollari di quotazione fino a quel livello possono rendere sostenibili finanziariamente le loro attività ovviamente non stiamo parlando di tutti ma di quelli appunto industrialmente più resilienti nel senso che hanno anche capacità di far fronte a contrazioni particolarmente elevate della quotazione ad ogni modo se torniamo indietro di circa 6 settimane qualcuno si ricorderà che questo importo era di oltre 12.000 dollari maggiorato quindi eravamo prossimi ai 29.000 dollari di costi di produzione c'è anche rarefazione legata al fatto che adesso abbiamo assistito alla dipartita dei cosiddetti turisti del bitcoin ossia tutte quelle orde barbariche che sono arrivate sul mercato negli ultimi 6 9 mesi spinti dall'euforia della precedente bolla anche in questo caso adesso avremmo bisogno di un periodo di tempo piuttosto ampio per far assorbire far metabolizzare tutta quella precedente fase che aveva creato tanta tanto fomo noi come società in questo momento stiamo proprio ristrutturando gran parte del nostro portafoglio nella giornata di domani avremo la verbalizzazione in anzionotaio dell'aumento di capitale sociale di Uchain e poi da lì si apriranno le porte anche per consentire a una piccolissima parte di esterni di poter entrare ovviamente prima viene data precedenza agli attuali azionisti tutto lì nottato poi verrà reso disponibile a una ristretta compagine di soggetti indorsati dagli stessi azionisti e questo nuovo capitale di rischio lo andremo ad utilizzare ad impiegarlo per aumentare le dotazioni su un basket ristretto di circa 10 nuove crypto asset sulle quali abbiamo iniziato sia una lenta fase di accumulo che un aumento delle stesse una di queste abbastanza note rimane per noi solana solana come la principale crypto asset sulla quale confidare per i prossimi mesi non dimentichiamoci mai che su ethereum non è terminato il il la preoccupazione nel senso che tra un massimo tre settimane dovremmo avere un esito di conforto su quello che sarà la famosa il famoso primo step del merge con la roadmap a ethereum 2.0 su ethereum ad ogni modo noi come società non andremo ad aumentare la nostra esposizione detto questo prima poi le domande tenetele in caldo tanto poi le evadiamo verso la seconda parte con il question time passiamo invece adesso un tema che mi è stato tantissimo richiesto durante questa settimana e riguarda i riguarda un etf che ho indicato la settimana scorsa scusate che ho sbagliato eccolo qua un etf del di vanek che ho indicato la settimana scorsa che consente di avere un'esposizione su a solana ovviamente non è un etf sarebbe un etn exchange trade note come potete notare vanek ha lanciato sul mercato non solo solana ma anche ethereum bitcoin tron avalanche e poi crypto leaders che adesso andremo ad affrontare vedere assieme molti mi hanno scritto mettendomi in evidenza come la propria il proprio intermediario bancario la propria banca non consente di acquistare di andare in negoziazione su questi etn che sono quotati lo vedete anche dal le prime due sigle dell'eisin sulla borsa di francoforte quindi quando voi avete un marketplace o una piattaforma di trading online che vi dà accesso ai mercati europei all'oxetra per sintetizzarlo potrete acquistarlo senza difficoltà alcuna che cosa sta accadendo invece che molte soprattutto banche online hanno messo in uno stato di blacklist tutti questi prodotti strutturati che replicano direttamente o indirettamente l'andamento del mondo cripto quindi paradossalmente voi avete un etn quotato ufficialmente regolamentato sui mercati regolamentati europei avete il vostro trading account con la banca xyz quando andate per ricercare l'eisin trovate vi viene identificato il buche inserite la vostra quantità provate a mandare l'ordine a mercato o a quantità prezzo limite e vi esce un messaggio un pop up non è possibile negoziare su questo mercato o in alcuni casi ho visto che l'eisin viene proprio non individuato dal motore per cui dal motore di ricerca della piattaforma per quale motivo perché come vi ho detto prima alcune se non la quasi moltitudine delle banche online italiane ha messo il bando questi prodotti perché li ritiene di farvi esporre all'andamento del mercato cripto che ovviamente è così a fronte della a fronte della correlazione specifica a che hanno e non vogliono pertanto avere poi in un futuro non tanto remoto delle ripercussioni o delle richieste di rimborso dalla clientela che ha perso denaro su questo prodotto perché ricordiamocelo sempre sono prodotti appena nati mi sto riferendo a questi etn che hanno dei volumi molto contenuti stiamo parlando grosso modo se prendiamo il caso di tron l'etn tron l'etn avalanche quindi già questo vi deve mettere in in stato di attenzione il fatto che un emittente di prodotti strutturati mette sul mercato un etn che replica avalanche avalanche uno di quei progetti su cui noi siamo esposti vi dovrebbe far capire il potenziale che ha anche la stessa avalanche e pertanto non non avete la possibilità di non avete la possibilità di andarli a sottoscrivere c'è un all'interno sempre dell'avanek vi è anche quest'altro che è molto interessante che si chiama etn crypto leaders che ovviamente replica che cosa l'andamento di uno specifico indice che nel caso dell'avanek è il movis crypto compare crypto leaders close index adesso in questi casi qua che cosa si fa per comprendere che cos'è lo strumento quanto costa che cosa c'è dentro io vado a cercarmi l'indice e l'indice come potete vedere è creato dalla market vector e per crypto leaders io ho un indice che è composto per il 30% da bitcoin poi 25 etn e un 15 cardano quindi ad esempio io questo prodotto non mi sentirei di andarlo a suggerire perché ha un'esposizione su cardano e noi su cardano non abbiamo una convinzione non abbiamo alcun tipo di convenzione la stessa cosa lo potremmo dire anche per tron che come potete vedere pesa il 6 quindi se voi andate a mettere in portafoglio quelle tn ammesso che il vostro marketplace vi consenta di andarlo acquistare attraverso il book di negoziazione avrete un'esposizione per circa il 20% del fondo su che cosa su cardano e tron e poi rispettivamente avalanche al 5 poi cadot al 6.5 solana all'11 ecco io sono abbastanza perplesso che quando vedo solana ha il 12 e cardano ha il 15 ovviamente chi costruisce questi specifici indici che devono poi servire da punto di riferimento per il gestore l'emittente del etn perché va a replicare l'andamento di quello specifico basket magari non fa valutazioni in merito a quello che è l'adozione e così via di solito questi indici vedete close index si chiama significa che se dovesse cambiare la capitalizzazione l'indice continuerà a mantenere quella a composizione almeno per un orizzonte di tempo all'interno del quale si prevede una eventuale sua un'eventuale sua a rettifica o a revisione l'aspetto più importante invece sui quali vi invito a riflettere è che come potete vedere questo etf al pari di tanti altri sono hanno essendo stati appena lanciati hanno una massa gestita vedete data di lancio 14 gennaio 2022 quindi cosa sei mesi appena anzi oggi oggi e domani fa sei mesi dal lancio e ha una massa di 1,7 milioni no miliardi 1,7 milioni di dollari cioè non c'è niente lì in giro ricordatevelo è un essendo appena nato ha una una quantità di capitale disponibile che è veramente irrilevante ecco chiamiamola così è irrilevante il tanti tante case di gestione scusate tante banche online hanno risposto alla clientela che non consentono l'acquisto di questi etn specifici per il mondo cripto perché non sono conformi alla direttiva all'normativa usage e pertanto hanno un bando interno ripeto dipende da negoziatore a negoziatore da dealer a dealer quali sono i rischi che si hanno quando si va a mettere in portafoglio un prodotto del genere beh innanzitutto il fatto che si è esposti per definizione all'andamento complessivo per correlazione positiva chi ha che ha quel basket specifico di cripto asset quindi se ritorniamo qui cos'è bitcoin ethereum cardano 30 40 solo queste prime tre posizioni pesano come potete vedere il 60% cioè solo questi primi tre asset pesano il 60% del fondo dovessero subire una contrazione rilevante ovviamente il nav dell'etn va per definizione in seguirà quel tipo di andamento viceversa c'è un altro tipo di rischio che molto spesso si ignora che è legato al ritiro e alla conseguente liquidazione coatta dell'etn cosa vuol dire che qualora vanè che il gestore vede che questo tipo di prodotto non è particolarmente acquistato o ricercato dopo un po' lo ritira perché i costi di gestione cominciano a incidere troppo e pertanto lo strumento diventa inefficiente finanziariamente parlando e questo guardate che succede abbastanza spesso quando le tn o le tf o le tc sono cosiddetti esotici cioè replicano mercati particolarmente difficili o che non sono molto ricercati in questo caso qui abbiamo un basket che è molto peculiare diverso il caso invece del che ne so del Vanek di Solana che ha fino a qualche giorno fa oltre 20 milioni di capitalizzazione anche in questo caso è piccolo tuttavia consente di far sperare soprattutto se la quotazione di Solana inizierà a salire nel tempo quindi per rispondere a tutti quelli che me lo hanno chiesto ma che cosa posso fare se la banca la mia banca la mia piattaforma di trading non mi consente di acquistare questi tn perché appunto hanno il bando non potete fare niente l'unica alternativa è andare a aprire un'altra posizione un altro trading account con un altro intermediario facendo presente che volete operare su questi prodotti se vi dicono sì su questi siamo disponibili allora potete procedere inutile se no andare in tal senso ho visto che se si tratta invece di clientela pesante quindi chi ha già ad esempio fondi con quell'intermediario e fa un certo tipo di pressione attraverso il support team o la retta di promozione dicendo guardate io vi firmo tutti i moduli che volete ma essendo quotato a Francoforte lo voglio acquistare se non mi permettete di effettuare questo tipo di operazione sposto tutto il patrimonio finanziariamente parlando quindi faccio il trasferimento dei titoli presso altri intermediari se avete fondi comuni di investimento presso quell'intermediario di entità considerevole faccio un esempio pratico avete un quarto di milione di euro in fondi di varia natura quel patrimonio genera commissioni di scusate genera rebates per circa un punto un punto e mezzo all'anno ha l'intermediario quindi significa grosso modo 1 1,5 punti percentuali sulla massa gestita 250 mila potreste tranquillamente andare sui 3 mila euro che l'intermediario andrebbe a perdere ogni anno 3 mila euro ribaltati grossomodo ogni anno ecco che quando ha quel tipo di viene portato innanzi a quel tipo di rischio magari diventa più accondiscendente perché non vuol perdere questo flusso di reddito di income che è passivo che gli spetta e quindi magari vi invia un form in cui vi fa vi chiede uno scarico di responsabilità totale del tipo io banca ti ho sconsigliato di fare questi investimenti e di voler negoziare su questi strumenti ma sei tu che specificatamente vi stai richiedendo di voler operare e quindi da quel momento in poi si aprono le porte e lo ripeto ancora una volta non ci sono altre non ci sono altre casistiche che vi consentono da questo punto di vista di poter prendere di risolvere il problema ritorniamo ancora una volta su questo etf che è stato segnalato indicato che io l'ho inserito in portafoglio mio personale oltre che in quello della società che come potete vedere replica l'andamento di un paniere di azioni non cripto ma azioni che sono correlate all'andamento del mondo chiamiamolo così blockchain e lì dentro c'è un ventaglio di società a livello mondiale che operano su tutto quello che oggi viene codificato come mondo blockchain quindi si va dalle piattaforme di trading fino a società di mining fino alla cyber security fino a infrastrutture per lo sviluppo di reti e blockchain l'abbiamo indicato che viaggiava intorno ai 62 63 euro per quota e ancora adesso continua insomma a mantenere questa fase di positività allo stesso modo voglio portare alla vostra attenzione il mercato cinese mercato azionario cinese perché come potete notare ha iniziato a risvegliarsi questo è il CSI 300 che è l'indice Shanghai Composite Composite Shanghai Index che è il principale indice che racchiude le 300 titoli per capitalizzazione complessiva e ha dato un segnale decisamente di conforto per quale motivo perché come potete notare questa struttura tecnica che era stata posta in evidenza nei mesi precedenti ha dato un segnale molto positivo nel senso che il volto inferiore del canale moderatamente rialzista ha avuto la funzione di contenere la contrazione se torniamo indietro come potete vedere all'inizio del 2021 dove abbiamo avuto il mercato l'equity cinese soprattutto il tech che ha perso grosso modo quasi 50% passando dai 6.000 punti ai 3.600 e adesso si è riportato sopra i 4.000 ve lo ricordo ancora una volta questa è una fase di mercato in cui si costruiscono le performance i motori di performance per i prossimi 3 mesi o 6 mesi quindi adesso uno deve avere delle convinzioni di investimento deve avere liquidità deve accettare la volatilità a livello fisiologico non potete pensare di entrare sul minimo è molto molto ardua come impresa accettare di entrare in un momento in cui ci sarà questa fase di lateralità che potrebbe perdurare secondo me lo farà almeno fino alla fine di agosto quindi più di tanto utilizzare il tempo anziché studiare bitcoin e ethereum per studiare quelle che saranno le future fang del mondo cripto soprattutto durante la fase finale del 2000 e 22 anche l'etf CSI 300 lo avevamo indicato sia su twitter che anche nella sezione market del mio profilo professionale tenete in caldo le domande che tanto poi le evadiamo nel question time passiamo infine a ulteriori due due valutazioni di fondo allora lo ricordo ancora una volta ogni qual volta avete un etn andate sempre a analizzare i componenti dell'indice cioè dell'indice specifico che è stato creato per replicare l'andamento di uno specifico crypto basket che in questo caso qua vedete si chiama ma addirittura crypto leaders noi di Uchain avevamo creato all'inizio dell'anno i crypto future leaders quindi non a dimostrazione del fatto che anche noi abbiamo delle commissioni che spesso vengono richiamate e cavalcano le commissioni di altri operatori passiamo infine a prima di prendere alcune domande ad evadere a quello che ci avete quello che mi avete scritto gli ultimi gli ultimi giorni su gli exchange cosa su quali soffermarsi quali sono quelli più interessanti dove opportuno dove opportuno dove è consigliabile operare e così via discorrendo il consiglio che vi do dal punto di vista professionale in questo momento di mercato implementate i una strategia di flight to quality cosa vuol dire flight to quality spostate la vostra operatività anche i vostri asset su intermediari di elevata qualità di elevato prestigio lasciate stare gli exchange tra virgolette esotici o balordi quelli che dimostrano di avere un support team che non risponde in tempi repentini e in tali casi anche possono mettere in freezing la vostra operatività il vostro conto ci sono tante casistiche in tal senso io consiglio di concentrarsi innanzitutto sugli exchange che prima di mettervi prima di darvi la luce verde per poter operare pretendono di aver effettuato una KYC completa ma soprattutto approfondita quindi non solo il numero di cellulare un documento di identità ma anche un proof of address come potrebbe essere un bank statement o una utility bill oltre ovviamente poi al noto selfie con la carta di identità in mano e così via discorrendo evitare quelli che sono già stati messi in evidenza da tanti influencer da tanti youtuber che hanno portato alla vostra attenzione che ci sono stati casi di vergognosa o inesplicabile congelamento dell'operatività impossibilità di ritirare le proprie dotazioni e così via discorrendo ve lo ricordo ancora una volta chi si è messo adesso in ascolto gli ultimi minuti la settimana prossima partirà un contest con denaro reale quindi con un exchange un conto dedicato con denaro reale con un obiettivo ambizioso di 100k seguite con il tutto perché si tratterà di non tanto un esperimento ma proprio un crypto portfolio che verrà modulato strategicamente su base mensile e consentirà di replicare un pool ristretto un basket ristretto di asset con il fine di raggiungere un determinato livello di performance entro i successivi 36 mesi quindi grosso modo tre anni ritrovarci alla fine del secondo semestre del 2024 all'inizio scusate del secondo semestre del 2024 quando saremo prossimi alle conseguenze del successivo albing bene chiudiamo poi con questo ultimo pensiero che era legato a forse l'ho richiamato ah sì a vostro modo di vedere scrivetelo in chat oppure lasciatelo poi sui commenti quale exchange vorreste che venisse utilizzato per questo contest con denaro reale scrivetelo proprio in chat e poi ne parleremo non chiedetemi crypto.com o binance per quelli non se ne parla ne hablar ovviamente per quanto riguarda la mia personale sensibilità su quali crypto scusate su quali crypto asset ha iniziato a accumulare a migliorare aumentare le dotazioni quelle di cui si è andati particolarmente a aumentare il carico sono abbiamo citato anche in live con daniele bernardi rispettivamente sono state avalanche poi abbiamo avuto solana solana ha avuto un secondo ciclo di acquisti e sono rimaste poi sono rimaste intonse chiamiamole così per adesso le dotazioni che abbiamo su near protocol su avalanche e su algorand che sono i 5 asset sui quali abbiamo maggiore convinzione ci stiamo decidendo di entrare su polkadot su polkadot perché abbiamo ricevuto una reportistica che mette in luce la bontà del progetto soprattutto i carichi degli istituzionali che stanno dando ossigeno allo sviluppo e in particolar modo per la seconda parte dell'anno attendiamo ad una fase se non altro di uscita da questa da questa contrazione che sta caratterizzando tutto il progetto so che la community dei polkadot fanboys in Italia è particolarmente copiosa non è una community talebana al pari di quella di che ne so di cardano o di cro o di etilion fanboys tuttavia andremo ad allocare una dotazione che non avrà in termini di peso strategico lo stesso lo stessa la stessa dimensione che diamo invece a solana a niar ad algorand e così via discorre e anche ad avalanche per quale motivo perché mentre queste chain hanno oggi un ecosistema fiorente rising in continuo in continuo mutamento ed aumento non possiamo dire purtroppo lo stesso per polkadot anche se polkadot richiamo un po' interattiva quella in un certo senso di cardano in cui vedrete arriverà vedrete arriverà però poi dopo sei mesi dopo tre mesi siamo sempre al punto di partenza è per questo che su polkadot si inizierà lentamente poco a poco senza andare a allocare troppo troppo capitale prendiamo adesso le vostre per il question time i vostri quesiti vi ricordo che per partecipare all'open day che farà la società per spiegare il suo piano industriale per i prossimi semestri basta andare sul sito della società e chiedere di poter partecipare questo non significa che si avrà accesso poi l'aumento di capitale sociale perché l'aumento di capitale sociale è destinato a tutti gli esterni che saranno indorsati cioè presentati ben avallati da azionisti attuali andiamo a prendere le domande quelle che sono evadibili in in poco tempo allora qui abbiamo Daniele che ricorda su Velax non è ancora sotto osservazione in parte vostra grazie Velax è stata recensita lo scorso anno se non ricordo male però anche nel caso di Velax abbiamo notato tantissimo marketing da parte della community cosa vuol dire? che quando un progetto ha quel tipo di caratteristiche significa che sta utilizzando tante risorse per che cosa? per il bla 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 cioè per far girare la voce e quindi creare attenzione sul progetto per adesso al di là del caso della Ferrari non abbiamo non abbiamo delle adozioni che facciano che ci spingano ad aumentare scusate ad inserirla come crypto asset fortemente strategica per il prossimo periodo Leo come crypto low cap che rispetta i criteri ISG suggerisco Mimic una payment coin contegualmente simile a nano ma basata sul browser passerà da proof of work a proof of stake a fine anno ecco anche questo è un bellissimo intervento quello di presumo Leonardo il i criteri ISG ne abbiamo già enunciato i rischi e le conseguenze quindi oggi chi non valuta l'impatto dei criteri ISG sul proprio crypto basket rischia di farsi molto male proprio perché sono lì che andranno dirottati i capitali quelli pesanti non ci soffermiamo adesso sui progetti low cap per quale motivo perché la discriminazione verrà fatta dai capitali di rischio portati dai capital venture quelli pesanti perché dove ha investito una società multimiliardaria è difficile poiché quella chain non funzioni è difficile che un certo tipo di problema riconducibile a una normativa intasi o rallenti lo sviluppo del progetto questa è una delle credenziali che mi sento di trasmettervi Tom Kat dice 70N non so a cosa ti riferisci forse era il patrimonio di un fondo quello di Solana dell'ETN di Solana c'è Simone ma se analisti di Vanek mettono il 20 per perché la Tostia non ha consigliato visto che fosse l'unica reale poste centralizzata attenzione non fate confusione perché l'ETN non è un fondo a gestione attiva l'ETN è un indice e quando si costruisce un indice lo si fa prendendo a riferimento dei valori finanziari che abbiano un orizzonte temporale abbastanza ampio ecco per cui infatti non è casuale che trovate Tron e Cardano che hanno almeno tre anni di vita come progetto e hanno sempre rappresentato dei crypto asset tra i primi a livello di ranking il gestore l'emittente di un ETN o un ETF che cosa fa? Mette assieme più componenti non sulla base delle aspettative che avranno questi crypto asset ma sulla loro attuale capitalizzazione perché ad esempio sono quelli più conosciuti molto plausibile che in questo momento di mercato se andate fuori dalle comunità dei crypto boys trovate qualcuno che ha sentito parlare magari o ne ha letto il trafiletto di Tron e Cardano rispetto magari a Algorand o Near Protocol è un po' lo stesso tipo di principio ricordate che gli emittenti di ETN guadagnano sulla massa gestita non sul risultato nel nostro caso la performance sarà generata dalla rivalutazione che avrà complessivamente il patrimonio che sarà allocato su quei crypto asset cosa ne pensi di Polygon Polygon è uno di quei asset che assieme a Polkadot stanno rappresentando il pilastro cosiddetto satellitare non quello core su Polygon abbiamo notato che questa settimana c'è stata questi ultimi dieci giorni c'è stata una dinamica particolarmente favorevole sulla quotazione non è non ha un peso strategico abnorme rispetto ad altri tuttavia come è già stato comunicato in precedenza non abbiamo un pensiero di grande una grande convinzione sul mondo di Ethereum ma non perché vogliamo arrogarci questo questa dicitura ma perché seguiamo chi è molto più grande di noi e ha questo questa aspettativa sul mondo di Ethereum preferisce ad esempio prendere posizione su progetti tra i reti alternativi che sendono a rendere scalabile Ethereum e così via discorrendo ancora Simone quale potrebbero essere le reazioni istituzionali se Ethereum verrà considerata come una security grazie ottima ottima ottimo quesito questo che stai che stai ponendo beh innanzitutto se così fosse immaginate tutti gli ERC20 cioè significa che quasi tutti gli utility token diventano security e questo aprirebbe a scenari decisamente poco confortanti considerare il mondo Ethereum security io mi sento un po' in difficoltà proprio per il fatto che la maggior parte sono utility token quindi hanno degli utilizzi legati esclusivamente a degli ambienti molto ristretti Ethereum invece security la ritengo anch'essa al pari di Bitcoin una commodity serve per alimentare determinati utilizzi determinate applicazioni ad ogni modo per quello che stiamo vivendo e vedendo avete capito che ci sono dei punti di interrogazione su la normativa legata al mondo cripto che può accadere tutto il contrario di tutto soprattutto anche richiamando la tanto annosa approvazione del famoso ETF su Bitcoin che a nostro modo di vedere non cambierà più di tanto le dinamiche dei prezzi attesi si creerà un po' di FOMO ma dopodiché ritornerà tutto all'interno di un range sottile e compresso sui quali oscillerà la quotazione per svariato tempo Eric Conio è una sefai o è solo un portafoglio Bitcoin ibrido Conio è una piattaforma per acquistare e vendere criptovalute piuttosto conosciuta in Italia adesso io non la utilizzo l'ho visionata alcune volte più che altro perché me l'hanno me l'hanno posta in osservazione è una piattaforma che va bene per una clientela tutto sommato easy e smart quindi che non ha bisogno di chissà quali strumenti raffinati per analizzare comprare spostare tradare e così via discorrendo l'aspetto importante di Conio e c'è importante che mette in buona vista il progetto è che il CEO della struttura se non ricordo mai è Christian Miccoli fuoriesce dal mondo di Inge di Conto Arancio chi se lo ricorda più di vent'anni fa fu proprio lui a lanciare e a creare il successo al Conto Arancio che poi apri le porte al mondo Inge qui in Italia proprio grazie alla guida di Miccoli Cusanagi per il 13 luglio i dati di SPI americana saranno disastrosi ecco guardate siamo entrati nel periodo estivo quindi da adesso da metà luglio fino al 20 25 di agosto ci sarà la refazione dei volumi nessuno tranne chi è proprio uno scaffato va a ristrutturare portafogli o prende posizioni in misura considerevole perché è sempre stato così il periodo estivo è un periodo di riflessione o di transito per passare a un altro eventuale pulso di mercato quindi chi adesso confida esclusivamente sul sulle notizie per muovere il mercato potrebbe trovarsi amareggiato ad ogni modo quello che abbiamo visto con non fan payroll di venerdì hanno fatto apparire una condizione del mercato americano tutt'altro che difficile nel senso che il tasso di disoccupazione è sotto la soglia fisiologica del 4% siamo al 3.6 di disoccupazione uno tra i più bassi storicamente al al mondo scusate per gli Stati Uniti Carlo cosa ne pensi che la session sta organizzando conto sull'ANA ah guardate abbiamo visto che cosa è accaduto con Ripple abbiamo visto che cosa è accaduto con tante altre vicende che non so ricordo Elon Musk con Twitter che adesso doveva gestire le conseguenze legali poi i tre famosi influencer la Kardashian con due noti giocatori di football americano che avevano indorsato dicendo che non erano financial advice al loro modo di vedere quello che stavano mettendo in evidenza di determinati crypto asset ebbene adesso devono affrontare anche loro class action per presunte violazioni comunicazioni del mercato il fatto di aver beneficiato di notizie informazioni riservate e così via discorrendo su Solana per adesso io mantengo una visione più che personale più che positiva e vi dirò di più seguite il progetto rilanciato la settimana prossima con Donato Reale perché Solana avrà un ruolo di una certa rilevanza all'interno di quell'esperimento vorrei aumentare le mie posizioni su Algorand che ne pensi il solito discorso le aumenti per quale motivo è l'unico asset che hai o ce ne sono degli altri se aumentare significa voglio distribuire una quantità di capitale di rischio per i prossimi mesi perché voglio aumentare la mia esposizione complessiva ecco allora che vado a effettuare quelle tranche in cui si entra sul mercato con tempistiche diverse comunque come ho detto prima io Algorand la detengo la detiene anche la società ed è uno di quei crypto asset su cui si ha tanta convenzione anche per impatti criteri ESG che ha tutta la tutta la chain Adriano secondo te i mercati old economy hanno scontato già in buona parte della situazione economica globale no non l'hanno ancora scontata se non altro per i colpi di coda in particolar modo quando dopo la fine dell'estate ritorneremo tutti ai posti di combattimento e ci cominceranno a esserci le conseguenze del razionamento dell'energia in particolar modo le forniture di gas soprattutto in Europa e lì quello produrrà volatilità sul mercato con momenti di plausibile tensione in più dobbiamo metterci anche un carico da poco che dovrebbe essere politicamente l'Italia che potrebbe durante periodo estivo rivivere qualcosa che abbiamo avuto durante il 2019 con la famosa crisi del papete per chi se la ricorda quindi l'Italia potrebbe creare dei scossoni ulteriori politicamente parlando alla vulnerabilità finanziaria dell'Europa Beppe un riepilogo delle prossime live in programma certo questa settimana sono un po' compresso proprio perché c'è l'aumento di capitale sociale di U-Chain quindi tante incombenze di natura amministrativa ad ogni modo già dalla settimana prossima ripartono le live con ospiti d'eccezione avremo colleghi trader e poi colleghi e cripto influencer che ci aiuteranno a conoscere vari punti di vista sul mercato visto quello che sta accadendo io penso che continuerò a mantenere le ama anche in agosto più che altro per farci compagnia perché sto notando anche a rarefazione turistica nella zona in cui mi trovo magari le ama si svolgeranno solo interna mattinata come oggi prime ore del pomeriggio e in più ci sarà sempre qualche update in particolar modo a quello di cui ho menzionato prima il lancio di un progetto live con De Raro Reale per il mondo cripto che interesserà lo so al 1000% tutti perché me l'avete chiesto in questi ultimi in questi ultimi mesi per rispondere ho visto che mi avete risposto sostanzialmente in tanti vedo Kraken Coinbase KuCoin KuCoin Kraken Kraken tutta la vita Kraken pensavo di utilizzare Gemini Exchange per fare questo esperimento questo portafoglio con denaro reale Coinbase mi dispiace siamo usciti da Coinbase ci sono troppi rischi in questo momento qui KuCoin e Kraken adesso lo vediamo KuCoin no perché tante cripto sono problematiche nella loro acquisizione preferiamo eventualmente Kraken o anche Bitpanda deciderò entro i prossimi giorni comunque per la settimana prossima dovremo già avere questo tipo di notizia dopo mio Dio qua ce ne sono centinaio non so se riusciamo che vada le tute Big sì rispondo a Big Whale si partirà con 10.000 e il concept è Road 200k riuscire a trasformare quei 10.000 euro in reali quindi no contodemo miei in un portafoglio di oltre 100.000 euro nei prossimi tre anni seguite il lancio perché sarà veramente molto esaustivo Paolo perché sei così negativo su Kronos mi dispiace crypto.com non fa per me se voi volete utilizzarlo vi faccio tanti auguri figli maschi Daniele preciso come sempre exchange direi KuCoin meglio per le figli sì però considerate che si tratterà di un portafoglio non dico statico per molto tempo comunque con una revisione dinamica a tre mesi significa che non ci sarà bisogno di una elevata movimentazione io partirò con cinque crypto asset con cinque pesi strategici diversi verranno monitorati questi su una time frame quindicinale quindi sulla base di quello poi verranno effettuate dei potenziali dei potenziali benefici quindi prendere profitto su delle posizioni si potrà anche essere parcheggiati poi in liquidità e così via discorrendo di certo non si parte subito con tutta la dotazione 100% ma si inizia proprio durante luglio e agosto la fase di ingresso VET continua ad essere una delle nostre storiche allocazioni non è stata aumentata né tanto meno diminuita ha trasmesso un po' di negatività in questi ultimi mesi in forza di un una price action abbastanza deludente soprattutto con un progetto che bisogna dire ancora ad oggi è particolarmente di rilievo Marvin non pensi che ci siano token che sovra performeranno le chain sì questo è strassaputo però la seconda chiamiamolo così i cripto 2.0 i criptomarket anzi non 2.0 2.0 dello scorso anno adesso sarà 3.0 anche richiamando proprio il peso che avranno le case di gestione con rispetto ai criteri ESG non è più non ha più tanto significato concentrarsi su utility token che spesso vengono lanciati da un team ristretto poi magari fa pump and dump quindi io preferisco andare dove c'è tanta sostanza e soprattutto come ho detto prima dove ci sono capitali veramente ingenti perché quella è la migliore non dico garanzia però presunzione che lì dietro ci sono delle pressioni delle forze e delle attenzioni volte a far funzionare a portare a elevata adozione quel tipo di progetto non so se ne hai parlato non so di che cosa Elrond vorrei ma non posso abbiamo avuto qualcosina di Elrond l'abbiamo data via non non siamo più convinti su Elrond ormai c'è altro su cui a nostro modo di vedere su cui ha senso posizionarsi lo ripeto ancora Marvin non si tratterà di un portafoglio per tradare sarà un portafoglio in stile buy and hold con una revisione quindicinale o mensile Bitfanda offre crypto index tipo etf con convincione tematica ha avuto modo di valutarli come ho detto prima sceglierò tra Gemini Kraken e anche Bitfanda Francesco tanti auguri anche a te a Binance io non lo utilizzo e tantomeno la società Lasit Lasit Channel Lasit Channel visto i recenti accadimenti buon pomeriggio visto i recenti accadimenti visto i recenti accadimenti a Celsius hai un parere riguardo a Nexo mi sembra di aver visto un tuo cripto portafoglio si esatto confermo Nexo è una cripto asset come utility token che fa parte della dotazione ancillare di EChain io stesso detengo Nexo probabilmente è il Sefai che in questo momento non è non ha non sta dimostrando vulnerabilità finanziaria ripeto probabilmente dopo se anche loro sono bravi a nascondere come altri il marcio purtroppo non c'è niente da fare in merito a questo comunque visto la disponibilità di capitale a salvare concorrenti che ha dimostrato Nexo questo è un elemento che gioca a suo favore ancora per Tommy il metaverso conosce OVR send mana simili saranno inarrivabili vediamo ve lo rimetto di nuovo questo questa grafica tratta da un editoriale di fondi e SICA come potete vedere ci sono case di gestione che stanno strutturando fondi e gestione attiva per cavalcare i macro temi di investimento del del come si chiamano macro temi di investimento del del metaverso quindi lì dentro troverete da The Sandbox a Decentraland e così via discorrendo The Sandbox e Decentraland sono anche questi inseriti in portafoglio come dotazioni per adesso Ancillari Omar grazie per tutte le dati chiedere info riguardo all'exchange Wirex perché nessun youtuber ne parla purtroppo Wirex mi ricordo due o tre anni fa ho provato aprire una posizione a investigarla a studiarla dopodiché ho lasciato perdere non dall'epoca non ho più di tanto grandi notizie ripeto ancora una volta fate fly to quality evitate chi è piccolino a mio modo di vedere o chi in passato o anche recentemente ha dato dimostrazione chiamiamola così di poca serietà cosa vuol dire poca serietà che prima parti dicendo queste sono le condizioni a b c in distanza di sei mesi o un anno viene stravolto tutto a non esiste più b retificata ci ne riparliamo ecco quelli non sono segnali a mio modo di vedere che trasmettono fiducia per il medio lungo termine beppe secondo te si raggiungerà il 15% per il secondo dei primi anni il 15% ci sarebbero ripercussioni devastanti già adesso l'8 barra 9 ricordate che c'è un interesse da parte dell'establishment politico e finanziario dell'elite di mantenere i livelli di inflazione attuali almeno per due anni questo proprio per rendere più sostenibili i debiti pubblici delle economie avanzate in modo tale da avere una nuova un nuovo strumento monetario che è quello il ricorso al debito che in questo momento qua non è percorribile a causa dell'eccesso di debito che si è fatto negli anni precedenti per gestire la pandemia Paolo Apecoin dopo pochi soli mesi sta superando Sandman cosa ne pensi Apecoin guarda non ci ho perso un un'ora a vederlo studiarlo ho visto il l'exploit che ha fatto quando l'hanno lanciato poi quello che è accaduto onestamente su il metaverso ci sono pochi progetti su cui abbiamo pochi pochissimi non ha senso adesso a ributtarsi su andare a aumentare le pezzature preferiamo preferiamo avere un'impostazione tutto sommato leggera light per quanto riguarda per adesso il mondo metaverso sempre però con dotazioni di rilievo ricordate che c'è anche Cryptarium dentro la nostra locazione Cryptarium si è ribranderizzata ne parleremo nelle prossime settimane è diventato choice.com si uniranno due mondi per crearne uno nuovo marketplace con una con un servizio di DeFi e quindi nascerà la Metafi come la chiamano la Metafi quindi metaverso più SeFi Nino che cosa ti ha convinto investirci tanti tante informazioni quelle più importanti sono legati alla carbon neutrality della piattaforma la scalabilità e il fatto che ci sono tanti developer che hanno iniziato a migrare precedenti progetti concepiti per Ethereum su Nier guardate che Nier noi lo ripetiamo da un po' di tempo potrebbe essere la sorpresa per i prossimi anni Nier Marco Cadena non è stata scaricata ma c'è veramente una lacrima sul viso di su Cadena non c'è tantissimo forse ci saranno 7 8 mila euro investiti su Cadena è una fa parte del pilastro ancillare che verrà ridimensionato profondamente durante l'estate snellito più che ridimensionato per concentrarsi solo e questo è il monito che voglio ribadire a tutti non si potrà più pensare di seguire 100 progetti da adesso in poi dovrai scegliere 20 25 e su quello avere tantissima competenza quindi posso fermarsi solo su 25 per poi andarne a estrapolare 8 7 8 su quelli core su cui andrai veramente a mettere tanto capitale non ti puoi più permettere il lusso di cominciare a seguire 20 30 cripto progetti piccolini bassissima capitalizzazione perché magari hanno una volatilità e così via da ogni modo Cadena per adesso non è che ha avuto tanta adozione in termini di exchange è un po' è un po' modesta per rispondere a Nino attenzione a non fare la confusione che se esiste un etn su ad esempio in questo caso qua luna vuol dire che l'emittente dell'etn è bravo o non è bravo allora non gliene frega niente su che cosa si fa il su cosa si va a replicare se c'è richiesta da parte del mercato per replicare un sottostante lo si va si creano le condizioni di creare la struttura per replicarlo che è un po' quello che accade se qualcuno si ricorda proprio con Terra cioè quando vi erano tante piattaforme di Sefy che dall'oggi al domani mettevano disponibile guardate adesso potete mettere in staking e depositare presso di noi a Terra ebbene ricordo come se fosse adesso che quando pubblicavo gli outlook negativi su Terra e Luna mettendo i vari moniti tanti rispondevano non capisci niente perché se c'è un'azienda che non so come Nexo che mette i staking ti permette di mettere staking a Terra vuol dire che Terra è valido no assolutamente loro che cosa fanno come tipo di valutazione in prima battuta i volumi che genera quel crypto asset secondo quante commissioni potrebbero scaturire terzo possono essere gli stessi clienti che fanno un certo tipo di pressione perché se la concorrenza magari lo offre tu fai la migrazione sposti i capitali e infine guardare quello che già accade in passato che ne so con Bitcoin Cash o con IOS risulta ancora essere depositabile IOS in numerosi exchange o anche Bitcoin Cash ha significato investire adesso su quegli asset direi proprio di no Fabio maestro la class action contro Solana potrebbe avere qualche ripercussione già risposto ripeto ancora troppo presto per dirlo ad ogni modo guardate sempre chi sono i bakers di Solana quando hai dietro alle spalle realtà così grandi sono i primi che vogliono tutelare i loro stessi capitali quindi se io mi metto dietro a a a Godzilla chiamiamolo così Godzilla potrebbe farmi da scudo proprio perché ha una forza imponente finanziariamente parlando si ho già risposto social music ma su Flo che ne pensate pubblicato la settimana scorsa l'elenco del chain secondo noi che sono non secondo noi che sono attenzionati dai gestori per essere compliance ai criteri ISG Flo è al ottavo o settimo posto di questo specifico ranking e Flo è uno di quegli asset assieme a Polkadot su cui si costruirà la nuova componente satellitare del nostro pilastro Flo Torchain come ho detto prima Flo stesso discorso Torchain è già in Rune già inserita a livello satellitare migliori cripto del metaverso noi come posizione per adesso abbiamo Decentraland e Sandbox oltre ovviamente allo stake su Star Atlas e prossimamente avremo un ospite da Los Angeles del mondo dell'universo Star Atlas che ci aiuterà a fare un update su quello che sta accadendo nel frattempo tutto il progetto sarebbe bello un giorno poter investire direttamente in bitcoin su un indice tipo Standard Pull 500 ma caspita social music guarda che questo esiste già ci sono già etf a replica fisica che ti consentono di fare questo basta che vai dalla tua al tuo marketplace e chiedi l'etf di btc physical scusate etf etc perché exchange trade commodity physical btc che è quotato la borsa di francoforte e siamo ormai al miliardo e mezzo di massa gestita dimostrazione del fatto di dimensione acqua e tipo di fondo l'abix quali sono le implicazioni per un retail che possiede coin classificate come se fossero security beh è ancora presto per dirlo però di certo non saranno tanto piacevoli perché quelle dotazioni potrebbero essere congelate e quindi l'intermediario dovrebbe essere obbligato ad effettuare la KYC se questa KYC non è completa o non è ritenuta sufficiente non ti verrebbe permesso né di venderle né di ritirarle fino a quando tutto il tuo profilo non sarà completato e uno di quei rischi che è legato a questo tipo di rischio Simone molto buona per il sistema multifirma il passaggio sì esatto molte persone che hanno capitali hanno iniziato a mettere in conto questo tipo di scenario e quindi soprattutto per importi di una certa dimensione si tutelano per poter consentire il subentro appunto generazionale Fabio ciao prossime trimestrali tech che sono molto potenziali possono essere motivo di impulso del mercato e in partita del Nasdaq io quello che vedo dall'analisi dei fondi multi asset e market neutral che hanno iniziato ad aumentare la loro esposizione verso il tech cinese e verso il tech statunitense cosa vuol dire che sono fondi che hanno iniziato una fase di sono fondi che investono ovviamente con un mandato di gestione ad ampia delega e possono spaziare dalle obbligazioni alle azioni e pertanto adesso hanno aumentato questo tipo di dotazione e per rispondere a Nino no FTX non viene presa in considerazione perché ha una limitata disponibilità di accesso a molti asset e a me personalmente l'idea di avere a che fare con le bermuda le Seychelles come sedi di riferimento non mi dà particolare confidenza già risposto su VeChain UoB lasciate perdere per adesso gli asiatici Simona un caro saluto a una follower di sesso femminile e tanto che non parli più di Nier no ne abbiamo appena ne ho appena spiegato o Nier è uno di quei uno di quei asset su cui si ha si confida sarà nostro motore di performance nel prossimo futuro Guglielmo vorrei sapere la sua idea su Euro Dollar scenderà ancora potrebbe scendere ulteriormente quindi sotto la parità e arrivare anche ai 90 centesimi quindi cambio Euro Dollar a 0.90 io l'ho visto a 0.85 durante l'attacco alle torri gemelle nel 2001 è uno quindi chi adesso pensa che sia il mondo di fantasia non è assolutamente così purtroppo purtroppo l'Euro l'Europa si trova in una situazione di vulnerabilità finanziaria ed energetica che indebolisce che indebolisce da una parte la sua moneta e dall'altra abbiamo invece i Stati Uniti che stanno con il tightening rendendo più interessante più attraente il loro dollar Alessandro prendo le ultime perché sto perdendo la voce in merito ad Algorand data la sua top tenomics fatta per tenere buono il prezzo non pensi che ha senso parlare solo in un lunghissimo termine che cosa significa lo ripeto noi adesso stiamo costruendo quella struttura del portafoglio per smobilizzarne metà o il 70% in prossimità della prossima bull run attesa ipoteticamente verso il quarto ciclo di Albing Syscoin la conosco però per adesso si è deciso di tenerla lì in watchlist sui radar non abbiamo interesse in tal senso conosci SafeMoon certo certo che conosco SafeMoon per ridere SafeMoon dai SafeMoon per continuare a ridere prendiamo le ultime tenetevi buoni Stefano tenetevi in calma cioè scusate abbiate pazienza che organizzeremo una live di aggiornamento esclusivamente sul rebrand di Cryptarium in Choice.com e anche a quello che questo dovrebbe comportare per gli azionisti prendiamo l'ultima di Adriano che dice molti parlano di acquistare Bitcoin senza KYC però non parlano degli schifo esatto bellissima osservazione e io la condivido al 1000% non me la sento nella maniera più assoluta di consigliare a nessuno questa strada perché mi ricorda quel periodo antecedente il 2008 2009 quando i capitali scappavano dall'Italia vista la crisi che all'epoca si era innescata e cercavano tra virgolette rifugio soprattutto nei noti nelle nazioni in cui c'era ancora il segreto bancario tipo la Svizzera o l'Austria per stare in Europa ebbene oggi chi avesse continuato a mantenere quelle dotazioni occultandole alle varie tax authority non avrebbe alcuna possibilità di poterle rendere bancabili ne ho fatto presente proprio qualche settimana fa dei episodi di chi aveva senza tanti giri di parole aveva evaso il fisco aveva creato delle poste oltre confine nel momento in cui anche con la volontà di sanare la posizione non vi era la disponibilità dell'intermediario bancario nell'accettare la posta in entrata in quanto si pretendeva attenzione si pretendeva un regolamento scusate un certificato di una certificazione di regolarità fiscale che nessun intermediario e tanto meno libero professionista era disponibile ad emettere in favore di quel soggetto di quel cliente di quell'azienda per le ovvie ripercussioni in termini di rischiosità penale quindi io ognuno sceglierà che tipo di strada intraprendere ritengo che sia razionale una exchange di ottima qualità che vi fa una super KYC inviate denaro attraverso il vostro conto bancario quel conto bancario viene whitelistato comprate a ritirate sui wallet di vostra proprietà cioè di vostro possesso whitelistate l'indirizzo e quindi avete una condizione di patrimonio assolutamente trasparente perché il denaro che entra viene utilizzato per effettuare uno swap sul mondo cripto l'asset acquistato viene ritirato e messo in deposito segregato e da quel momento in poi non vi è attività alcuna tranne quella di trading che andrete a fare ebbene questo tipo di collegamento crea un crea una etichettatura una genetica ineccepibile sulla provenienza dei fondi e la loro poi destinazione quando più avanti dovrete andare a casciare la posizione dallo stesso wallet verranno rimandati alla stessa allo stesso exchange che quindi vedrà il white listing la coincidenza del white listing e poi a sua volta quando andrete a prelevare parzialmente o integralmente quello casciato ritorneranno sulla banca di origine soprattutto questo si verifica se operate con banche intermediari all'interno dell'Unione europea chi invece intraprende strade non convenzionali chiamiamole così sotto luce grigi sotto luce o ambiente grigio ha dei rischi non indifferenti perché quello che qualsiasi tax authority in Europa adesso ti chiederai ma scusa e per quale motivo se era tutto regolare hai voluto conferare che adesso bitcoin attraverso questo dispositivo per non farti individuare siete voi poi che dovete dare delle giustificazioni credibili con il rischio di trovarvi poi blacklistato quell'indirizzo di provenienza cosa che difficilmente potrebbe accadere invece se impiegate se mantenete quella strategia di cui vi ho parlato ricordate sempre che tutto questo ha una doppia finalità da una parte tassare il fenomeno quindi la rilevanza fiscale di eventuali plusvalenze e dall'altra evitare che ci possano essere fenomeni di riciclaggio piuttosto noti soprattutto richiamando a paesi o nazioni in cui il controllo di flussi finanziari è il suo generis abbiamo fatto un'ora e venti sconfinato oltre ogni oltre ogni limite che ce l'avamo posti ho visto che avete partecipato con grande con grande euforia ci rivediamo qui lunedì prossimo sempre alle 15 non perdete i prossimi update ma soprattutto non perdetevi il lancio della nuova serie di episodi road to 100k con denaro reale perché sarete molto curiosi ma soprattutto anche molto entusiasti con l'occasione buoni investimenti buon trading buon bitcoin e ci vediamo la settimana prossima presto a tutti arrivederci